Presidente, come ho già chiesto per due volte in Capigruppo e per altre due volte in quest'Aula, vorremmo avere la possibilità di poter dibattere e dopo votare su quello che sta avvenendo in Ucraina, se questa maggioranza ce lo permette. Perché a proposito di continuare a scappare, ed era il tema del voto prima di questo, succede che man mano che andiamo avanti con le settimane gli argomenti si aggiungono sempre di più, come ad esempio la risoluzione europea. Noi abbiamo un partito in quest'Aula che per nove volte ha votato per l'invio alle armi e alla prima occasione europea vota contro l'invio alle armi ed è un partito di maggioranza. Ora, visto che ci sono delle sensibilità di chi è in Europa pacifista e in Italia guerra fondaio, vorremmo capire qual è la direzione di questo Governo rispetto all'invio delle armi. Quindi vorremmo sostanzialmente che qualcuno di questo Governo possa venire in quest'Aula dirci se quello che ad esempio aveva detto il Ministro Grosetto nel nostro question time, il segreto sulle armi, unico Paese ad averlo, è un qualcosa che va cambiato o no? Il Ministro aveva dato un'apertura, poi non ci ha più fatto sapere nulla. Vogliamo sapere se questo Governo che si vota contro in Europa in questo Parlamento è unito. Quindi noi non vi stiamo chiedendo di non scappare, vi stiamo chiedendo almeno di farci capire in che direzione scappate. Quindi facciamo delle comunicazioni, lo abbiamo chiesto per tre volte, portiamo questo Governo qui, mettiamo uno dei temi principali di questo Paese e dell'Europa in questo momento sul piatto e ognuno esprima legittimamente le proprie opinioni. Ma continuare a rifiutare un dibattito rispetto a quello che sta avvenendo è un qualcosa che non può essere proprio di un grande Paese come l'Italia. Quindi io rinnovo questa richiesta come Movimento 5 Stelle e crediamo che questo Parlamento, questa Camera dei Deputati abbia ancora un valore, almeno finché c'è un'opposizione che chiede un dibattito. E ribadiamo quindi questa richiesta. Grazie.